Buongiorno amici, siamo i giocatori per caso, finalmente hanno sistemato gli NPC della sfida di Superman, ma oggi vi racconto cosa è successo in tutta la giornata, che hanno fatto un po' di caos, ma intanto iscrivetevi al nostro canale. Oggi è una giornata di caos signori, le sfide sono apparse alle ore 16, ma gli NPC non c'erano ed era impossibile fare le sfide, tranne i metodi alternativi che siamo riusciti comunque a trovare, ma adesso sono apparsi. Iniziamo ad andare a vedere dove sono, il primo Batman si trova qui a Moli, ora andiamo direttamente a Moli così vedete esattamente dove si trova, intanto vi racconto il resto. Oggi l'unico modo di fare le sfide per un paio di ore circa è stato quello di andare a una cabina telefonica, lì potevi prendere le sfide, il problema è che erano sempre le stesse, non cambiavano mai, dopo hanno sistemato. Come vedete le persone in questo momento sono più interessate a prendere la sfida di Batman che a spararne. Configgi gli alieni e vola su un disco, queste sono le due sfide che fa lui. Prendete quella che preferite e fatela, ne dovete fare 5, potete fare 5 volte sempre la stessa, io ho fatto 3 volte la stessa ad esempio. Inizio a farvi vedere sconfiggi gli alieni. Quando ho fatto le sfide ovviamente non avevo la skin di Superman perché quella è il premio di queste sfide, ne dovete fare 5. Come detto fate quelle che volete, anche 5 volte la stessa non è un problema. Guardate, qua ero a vivaio perché a vivaio ci sono gli alieni, basta che lo sconfiggete e la sfida è fatta, una è fatta così. Poi volendo rifaccio 4 volte la stessa sfida e non è un problema. Se volete fare vola su un disco potete cercare uno dei disco volanti che ci sono in giro per la mappa, io ad esempio qua ero a Foschi Fumaioli, lo vedete lì in fondo, c'è sempre, ogni partita c'è. Oppure andate in giro, buttate giù un disco volante e quando scende l'alieno glielo fregate senza starli a farvi troppe domande. Il disco comunque si trova qui a sud ovest di Pantano, basta salire e partire e la sfida è bella che è finita. Nel mio caso era solo una cosa di passaggio, non dovevo farla ma potete farla così. Ora andiamo al frutteto, perché? Perché c'è Superman o meglio è Clark Kent. Facciamo un bello zoom così vedete bene la posizione. Dovete fare la stessa cosa di prima, andate lì, gli parlate e lui vi dà le sfide o meglio scegliete la sfida che meglio preferite. Adesso noi siamo diretti lì, proprio in quella casa, guardate siamo diretti al frutteto, non la casa rossa, quella grigia alle spalle. E tra l'altro ci sta andando diversa gente, speriamo che non ci sparano, noi facciamo finta di niente, vediamo se ci va bene anche questa volta. Eccolo qui. Allora, prima sfida, sconfiggi gli alieni, visita la nave madre o un bioma alieno. Allora, sconfiggi gli alieni l'abbiamo già fatto, è quello di prima. Per visita la nave madre o un bioma alieno è sufficiente che andate al centro della mappa, qui c'è il bioma alieno. Oppure potete andare anche dove ci sono gli alieni, dove si è andato prima a sconfiggere gli alieni, anche quello è un bioma alieno. Se volete andare sulla nave madre è sufficiente che andate al centro della mappa, vi appoggiate sulla nave madre principale, quella sopra, e la sfida è finita. E infine andiamo da Beast Boy, che ovviamente essendo un gorilla è in mezzo alla foresta. Un bello zoom, così vediamo subito dove si trova. Si trova su questo ponte, sul ponte principale che c'è, lo vedete? Questo qua. Adesso noi ovviamente siamo diretti lì, io ho tagliato tutto perché è stata un'impresa arrivarci, non è andata bene come negli altri casi. Comunque, andiamo sul ponte e lo vedo già lì a sinistra che sta passeggiando allegramente. Lui ci dà altre due sfide, ma volendo, ripeto, potete fare cinque volte la terza sfida di prima, non è un problema. Lui ci dà, sconfiggi gli alieni, che è lo stesso che abbiamo già visto prima, e raggiungi la velocità di 99 con un veicolo. Quella è semplicissima, prendete la Ferrari, quando la trovate in giro, e mettete il turbo. La Ferrari supera tranquillamente i 100 km orari, è una cosa velocissima. Per cui, Ferrari, turbo, e avete finito la sfida. Ecco, quando avete fatto cinque di queste sfide, avete finito tutto quanto. Questa è una nuova arma che non volevo farvi vedere, ma è partita adesso, vabbè. Si chiama oggettificatore, e adesso faccio subito un video dedicato così vedete com'è. Ciao ciao, alla prossima! Se questo video ti è piaciuto, metti un pollice in su, che per noi è un gesto bellissimo. Iscriviti al nostro canale, e attiva la campanella per essere sicuro di ricevere tutte le notifiche.